In questa prima settimana di spettacoli si parte da giovedì 24 agosto alla Corte Manatestiana di Fano con il concerto lirico-sinfonico I nostri Perrossini. A dirigere l'orchestra in grande stile, in grande formato sinfonico, il maestro Riccardo Bisatti, giovanissimo talento internazionale della direzione d'orchestra. Si passa poi al 25 con un doppio appuntamento al mattino, la conferenza di Claudio Toscani che prepara gli spettatori all'ascolto serale del birraio di Preston. L'opera che quest'anno restituiamo all'ascolto del grande pubblico, scritta da Luigi Ricci e che da 133 anni non veniva eseguita. È un'opera bellissima e quindi invitiamo tutti ad ascoltare questa riscoperta. Poi una due giorni, urbinate, 26 e 27 agosto, nella bellissima piazza Duca Federico per la replica, il 26 del concerto lirico-sinfonico I nostri Perrossini. E il 27, la seconda edizione del concerto Il Bel Canto Marchigiano, un concerto in cui facciamo vedere come questi compositori della prima metà dell'Ottocento avessero in gran parte, almeno ci fossero tanti compositori, di origine marchigiana. Quindi potete trovare tutto su Viva Ticket, peraltro la vendita online non prevede il ricarico e quindi i biglietti li potete comprare sia su internet che all'ingresso degli spettacoli al prezzo che trovate sui nostri social e sui nostri siti.